Dobbiamo vedere anche la camera, l'appartamento executive, il più grande, con Dominga, al Varsovia ce ne sono solo sette, quindi noi metteremo quest'upgrade e sarà possibile prendere questo mega appartamento sulla condizione che ci sia la disponibilità a maggio ed a giugno. Vero Dominga? Ovviamente è un po' più vissuto ragazzi perché ci siamo noi, però ovviamente ci sono sempre gli stessi accessori, il phon, gli asciugamani che vengono riforniti. Ok, questo è uno degli appartamenti più grandi, qui c'è un primo armadio. Ok, perfetto. E ora andiamo verso la cucina e il salotto. Anche questa cucina ragazzi come vedete è super spaziosa, super comoda, quindi per gli amanti della cucina qui è uno spasso perché i fornelli sono davvero molto all'avanguardia. Anche qui ritroviamo un microonde, un forno, la lavastoviglia piena. Ok. E poi come puoi farvi vedere Anna il salotto è molto molto grande e noi l'abbiamo anche un po' personalizzato grazie alla nostra designer Laisa. Allora, arriviamo verso degli accessori natalizi, calendario dell'avvento. E poi qui c'è la nostra coinquilina, la nostra English ambassador. Vuoi dire qualcosa Anna ai nostri... Sì, anzi, facciamo innovazione di processo. Innovazione di processo, vi regala una bella perla in inglese. Ok, hi guys, looking forward to having you here in Warsaw. E nel frattempo mi raccomando, ragazzi noi vi aspettiamo in Polonia. Take care. Sì, io. È troppo bella la nostra English ambassador con un accento fantastico. Ok, ragazzi, adesso vi faccio vedere la parte più bella di questo appartamento, secondo noi. Perché è questo balcone immenso con una vista fantastica perché ci troviamo al decimo piano, quindi è una delle viste più mozzafiato. Infatti, qui abbiamo visto dei tramonti incredibili. Anna, fai vedere un po' il panorama notturno. C'è ancora un po' di neve. Sì, è rimasto ancora un po' di neve. Attenzione, qui. Sì. Sì, ragazzi, il ponte è lungo. Adesso facciamo un giochetto. Sì. Sì, è vissuta. Ok, qui troviamo un letto singolo. Poi questo armato. Sempre con lo specchio. C'è comunque tanto spazio anche qui per poggiare le valigie. È uno specchio molto importante per le ragazze. Ok, e proseguiamo. Sembra quasi un labirinto. Proseguiamo nella seconda camera da letto. Qui invece abbiamo una matrimoniale molto, molto spaziosa, con questi armadi molto, molto grandi e spaziosi. Quindi se magari non entra qualcosa nell'altra stanza potete metterla qui tranquillamente. Ok, e poi il secondo bagno. Si presenta una doccia. Si è aprito i tercettori, anche qui asciugamani, riforniti. Ok, facciamo un ultimo saluto dal salotto. Ok, magari chiudiamo la finestra, se non ci prendiamo un colpo. Ok, ragazzi, quindi questo Tour Experience finisce qui. Spero vi sia piaciuto. Secondo me vi avrà aggassato moltissimo. Questi appartamenti esistono, sono reali, sono veri e noi ci stiamo trovando da Dio. E quindi vi aspettiamo qui in Polonia.